Ragazzi miei, la Juve si mozzica il gomito La Juve si mozzica il gomito Io non ho parole, vogliono vendere Dybala Dybala sul mercato lo vogliono vendere, ragazzi miei, a parametro zero La Juventus, ragazzi miei, è una squadra vergognosa Un presidente vergognoso che non sa neanche lui cosa deve fare in questa squadra Non merita di stare in questa squadra, Agnelli, non lo merita Vogliono vendere Dybala e no Ronaldo Ronaldo non si deve toccare Dybala Sissi, lo possiamo dare anche in Serie D Dybala Va bene così, va bene così Questo vuol dire che di un giocatore talentuoso, pieno di talento come Dybala Che in questa stagione Dybala è stato Paolino Dybala Sarà molto, molto, molto sfortunato Soltanto perché si è infortunato Avendo avuto un infortuno grave Ma grazie a Dio si sta riprendendo Tu che fello vuoi mandare via dalla Juventus? Paratici, cosa dice? Ronaldo non si deve toccare Guarda che io Ronaldo lo potrei mandare anche in Serie B Io Ronaldo lo potrei di nuovo restituire a Real Madrid Vabbè, parliamo anche dell'acquisto di Real Madrid di Oland Oland viene dal Dortmund Oland viene dal Madrid a fine stagione Alzo le mani, Oland è un campione Oland è un campione e meta di stare in squadre grandi Ma nel Dortmund rimanerà sempre una storia Il problema è Dybala se se ne va via da Juventus o no Perché, caro Agnelli, fai questo? Perché, caro Juve Cioè, sprechi un giocatore Buttivi un giocatore Cioè, guardate la Juventus come anche stupida di carattere Guardate un po' Ronaldo, Cristiano Ronaldo Che è della Juventus Si sono tolti Moise Ken Moise Ken, quel giocatore che è Un giocatore pazzesco Un giocatore con vent'anni, fottissimo Lo mandi all'Ereto L'Ereto lo va al Paese Angelman Adesso che sei in crisi Lo rivuovi di nuovo a Ken Certo, sei venduto e te lo vuoi di nuovo riprendere Ma che razza di pagliacciata è questa? E adesso, cosa vogliamo fare? Vogliamo prendere Cercuna Guero Un giocatore che ha 32 anni Sveglia! A noi ci servono giocatori veloci Ci servono giocatori giovani Che sanno giocare Sanno fare le cose che devono fare in attacco Devono giocare Non ci servono più i giocatori Che hanno 40 anni, 32 anni Se Cuna Guero ha 32 anni E' normale se vi andiamo Che siamo molto contenti Che Cuna Guero è un campione Oh ma statevi calmi State attenti Che questo qui ha 32 anni Sto Cuna Guero Voi vi volete prendere davvero Un giocatore Che ha 32 anni Quando vi potete acquistare Dei giocatori Che hanno meno di età Volete dei giocatori giovani Acquistate i giocatori giovani Perché non lo volete fare Vi volete acquistare i giocatori giovani O no? Ken Perché te lo sei trotto Perché mi rispondi? Perché Ken Perché Perché Ti sei trotto Ken? Ti sei trotto Ken? Sono giocatore Che Proprio Afro-italiano Non lo so Ma un giocatore Che ragazzi miei Per diventare il calciatore Ha fatto questo gesto Qui Io sono diventato Questo calciatore Perché io ho sofferto Prima E io sono E io sono contento Di essere diventato calciatore Un giocatore bravissimo Italiano Umile Generoso Ehm Ehm Saggio Tu che fai? Cioè Prima Te lo vendi Lo sputi in faccia E poi lo rivuoi Cioè Noi ci siamo tutti Ragazzi miei Non so se mi spiego Moise Ken Un giocatore Che nella Juventus Segnava sempre Con Allegri Segnava sempre Non ogni partita Mancava E la squadra Non c'era segnare La televisore Era lui Cosagri Ti sei tutto Ken E ti sei tutto Mandzokic Ti sei tutto Embrechan Ti sei tutto Iguain Ti sei tutto Matuidi E hai distrutto Un centrocampo Ti sei preso Rabiot Ti sei preso Attur E ti sei preso Kuluzeski E ti sei preso McKennie E ti sei preso quell'altro E quell'altro Attur Gabbioca E sto giocatore Che hanno fatto Una grande delusione Quest'anno Una grande delusione Una grande delusione Mamma mia Cioè veramente Ragazzi miei E' vergognoso Una squadra Come la Juventus Che Cioè Ken Poi ho l'aggettivo Ken Tu che fai Te lo rivendi Tu te lo butti via E poi lo rivori Di bala Cioè non cacci via Ronaldo E me cacci di bala Un giocatore Un giocatore che ha pure 26 anni Non ha chissà che taggione Però 27 anni C'è l'altro 27 anni di Di bala Di grande talento 27 anni di Di grande talento Un giocatore che ha voglia di giocare Perché quest'anno ha avuto Una stagione difficile Sfortunata ovviamente Però perché ti vuoi togliere di bala Palmetto Zero Dei gratis Di bala Un conto se tu ti togli di bala E di bala Che adesso lo rendi a 40 Cioè più di 50 milioni A me potrebbe andare anche bene Perché almeno con quei 50 milioni Ti puoi comprare qualche difensore fotte Qualche potere fotte Oppure qualche centrocampista Attaccante bello giovane Veloce A posto di Tenercci A tu che non stai venendo Che non stai venendo Non è merito niente Nella Juve Tutti errori In questa squadra Tutti errori in questa squadra Ai Sag Tutti errori in questa squadra Perché la Juve Fai tutti questi errori Hai visto il Bayern Monaco Ma secondo te Il Bayern Monaco Se ha una informazione Di bala infortunato Secondo te Si va a vendere di bala A questo punto Nato che è vecchio Se lo toglie dalle scatole E si tiene di bala Cavolo Di bala Il giocatore è veloce Giovane Fresco Giovane Pieno di talento Argentino Puro E tu ti prendi E tu Ti Ti Metti Cristiano Noi di informazione Che Ha perso la Champions Due anni Si è uscito Danieli Due anni Si è uscito Due anni All'ottavi Con il Lione Potto E Quanti di finale Ajax Ajax Che dolore E i fan Hanno fatto bene A gufare Hanno fatto bene Avete fatto bene A gufare E ve lo dico ancora una volta Se la Juve perde Godete Siete sempre sportivi Ragazzi ho sbagliato io Scusatemi Gianluca Castellano Mastrangelo Potete goder Ho sbagliato io Scusatemi Scusatemi Ho sbagliato io Perché pure qualche volta Se la Juve vince con l'Inter Godo E non male La stessa cosa dovete fare voi Quindi ragazzi miei Viva sempre a sportività Juventus Da fino a fine bianco e nero è tutto Ci vediamo forse dopo Con l'Italia Spagna Under 21 Juventus Ragazzi miei Che quest'anno Irriconoscibile E inallenabile Come ha detto Maurizio Sarri Ok